Oggi, con questa azione di violenza civile non presenta, che è la nostra prima federazione, perché i suoi uomini, i miei figli, le mie studenti e le loro vite saranno presto in pericolo per la siccità, le carestie e le migrazioni causate dai cambiamenti climatici. E io sono profondamente grata. C'è un imperativo morale di agire, c'è un imperativo morale di agire, dicendo le cose degli altri. Degli altri? E chi è che si occupa del nostro bene? C'è stata la peggiore efficità negli ultimi 500 anni, c'è stata la peggiore efficità negli ultimi 500 anni, non c'era acqua, non c'era... E fin da che le cose siano ancora normali, è un'illusione, è un'illusione! Io vorrei essere a casa mia a fare il lavoro che amo.